La polizia di Bruxelles ha sporto denuncia per diffamazione contro un'eurodeputata di colore che ha accusato le forze dell'ordine di maltrattamento e discriminazione razzista. Ci aspettiamo che l'inchiesta della magistratura chiarisca cosa sia accaduto realmente. Ci aspettiamo un'indagine senza pregiudizi in cui ad emergere sia la verità dei fatti accaduti. L'eurodeputata Fofana ha dichiarato pubblicamente di essere stata strattonata e maltrattata per aver filmato dei poliziotti mentre fermavano un gruppo di adolescenti neri in una stazione di Bruxelles. In un discorso accorato che le valsa una standing ovation al Parlamento europeo, l'eurodeputata ecologista ha raccontato nei dettagli di come le sia stato sequestrato il telefono malamente dalla polizia. Non sono affatto sorpreso della denuncia contro Fofana da parte della polizia. In casi simili di comportamenti razzisti le autorità hanno risposto attaccando le vittime, soprattutto qui a Bruxelles. La polizia non si fa nessuno scrupolo a dichiarare il falso e a fabbricare prove inesistenti per provare la sua innocenza, rivolgendo le accuse contro le vittime. Il sindacato della polizia belga nega le accuse di razzismo sistematico, nonostante le ripetute denunce del movimento Black Lives Matter in Belgio. Il giorno dell'incidente l'eurodeputata Fofana aveva dichiarato ad Euronews che sentiva il dovere di parlare a nome degli oppressi. Il problema del razzismo è strutturale ed è qualcosa che ho sperimentato personalmente molte volte. In qualità di europarlamentare ho la possibilità di esprimermi a favore di chi non ha i canali per denunciare i maltrattamenti. Ed ora è lei a doversi difendere dalle accuse della polizia. Grazie.